già la tipica inglese che noi insomma in qualche modo abbiamo cercato di riproporre. Il divertimento nel mettere in scena questa commedia è stato quello da parte mia, da parte della regia, di giocare in qualche modo con quelli che sono le classiche, i canoni del giallo, giocarci in senso teatrale, cioè le porte che cigolano, la tempesta di neve, la corrente che va via, giocarci questo significa che per farvi un esempio le porte che cigolano sono fatte dagli attori stessi, cioè un attore apre la porta e interpreta la porta che cigola, quindi ogni porta cigola in maniera diversa perché l'attore la interpreta in maniera diversa. La neve di questa tempesta che blocca tutti in questa casa, in quest'albergo, è una tempesta fatta di coriandoli, per cui un altro elemento molto finto, cioè quindi molto teatrale, per cui ogni volta che un personaggio entra e si toglie il cappello c'è questa pioggia di coriandoli che scende in scena, insomma nevica in scena. Quindi ecco, degli elementi tipici del gioco, del divertimento teatrale, del teatro nel teatro, che in qualche modo caratterizza questa messa in scena, appunto di una messa in scena tutto sommato abbastanza tradizionale. Credo di aver detto tutto di trappola per topi, non dirò chiaramente che è l'assassino, anche se è sempre il maggiordomo, ma il maggiordomo non c'è in questa commedia, quindi... Testimonio come spettatore, no? Testimonio come spettano di un fatto secondo me straordinario, proprio della capacità, intanto di questa compagnia che credo che sia veramente da individuare tra le bene merite del teatro italiano, senza ombra di dubbio, sia per la loro longevità, soprattutto per la loro professionalità e per la capacità di portare testi, come poi parlerai di Michael Frank con Rumori fuori scena, che tra l'altro Andrea lo ha fatto anche lui in una versione, anche tu l'hai fatto giusto a teatro. No, la cosa straordinaria che io ho riscontrato nel pubblico, avendolo visto varie volte, avendolo anche ospitato, quindi essendo in platea insieme al pubblico, è che nonostante che il pubblico, probabilmente, gran parte del pubblico, sa esattamente chi è l'assassino e come va a finire, travola per topi, la gente partecipa con una suspense quasi da, che ne so io, da, insomma, reagisce come se non lo sapesse, ed è il meccanismo perfetto che la compagnia è riuscita a costruire. E parla anche, durante un'altra settimana la gente, no è stato quello, no, guarda quello, e c'è una grandissima partecipazione, ad alta voce anche, insomma, che ci fa assolutamente piacere. E poi uno spettacolo trasversale, nel senso che piace dai ragazzi, dagli otto anni in su, fino anche ai meno giovani, insomma, anche i bambini partecipano, insomma, a questo meccanismo del giallo. Ok, chiudiamo il capitolo Agatha Christie, e apriamo l'altro, di Rumori fuoriscena, Michael Freyne, 30 anni di repliche nel, sì, nel 13, noi siamo qui, quindi sono 30 anni di repliche, perché ha debuttato nel 1983 al Teatro Flaiano a Roma. Vi racconto un po' come è nato, io ancora non c'ero nella compagnia, attori e tecnici, sono subentrato qualche anno dopo, e Attilio Corsini, che non c'è più, scomparso qualche anno fa, quando vi capitò questo testo tra le mani, in realtà, era la terza scelta, cioè nel senso che questo testo, gli agenti di Freyne, gli agenti italiani, lo portarono al Sistina, a Garinei Giovannini. Però venne scartato, proprio perché l'impianto di questa commedia è un impianto assolutamente corale, dove sono nove protagonisti, per cui Sistina lo scartò perché dice, figure si riescono a mettere insieme i nuovi protagonisti, cioè avrebbero fatto pannelli, valori, quindi era un'operazione impossibile da fare. Passò a un altro teatro, credo che fosse l'Eliseo, anche lì stesso problema, dove in qualche modo la ditta non poteva mettere su uno spettacolo così corale, e per cui poi arrivò ad attori e tecnici, Attilio disse anche che forse era uno spettacolo che non avrebbe funzionato, e invece poi messo in scena, insomma, 30 anni di repliche, credo 10.000 repliche probabilmente, forse, nel senso che qualcosa che ormai appartiene alla mitologia, nel senso che non sappiamo qual è poi il confine tra la realtà e la verità. Rumori fuori scena è la storia di una compagnia teatrale che mette in scena una farsaccia, e sono tre atti, nel primo atto sono le prove di questa messa in scena, il secondo atto è il debutto dello spettacolo, o meglio, il secondo atto non è il debutto dello spettacolo, ma è dopo qualche mese di repliche dello spettacolo, e il terzo atto è dopo molti mesi di repliche, dove lo spettacolo è completamente sfasciato rispetto a quello che ha debuttato qualche mese prima. è una ripetizione sempre dello stesso spettacolo nei tre atti, il primo appunto le prove, il secondo lo spettacolo visto da dietro le quinte, e il terzo rivisto un'altra volta davanti, appunto dopo mesi e mesi di repliche. Quindi un gioco del teatro nel teatro, un aneddoto che voglio raccontarvi e poi chiudo, siccome in scena succede veramente di tutto, è uno spettacolo anche molto molto fisico, si salgono ogni replica centinaia di scale, si aprono le porte centinaia di volte, attori che ruzzolano dalle scale, quindi succede veramente di tutto, in una replica un attore si sentì veramente male, svenne durante lo spettacolo, e noi chiaramente ci siamo fermati e abbiamo chiesto se c'era un medico in sala e questa richiesta venne accolta da una fragorosa risata perché tutti pensavano che fosse parte integrante dello spettacolo e quindi poi il medico dopo cinque minuti è salito su perché si sono resi conto che invece l'attore stava veramente male. Per cui, appunto, questo gioco è tirato nel teatro di una commedia scritta, un capolavoro del teatro gomico, un vero capolavoro, una macchina infernale, una bellissima regia di Attilio Corsini e un tipico spettacolo attori e tecnici, appunto uno spettacolo corale come Rumori fuoriscena, come Trappola per topi, dove ogni attore è al servizio dell'altro. Grazie. Ah, l'ultima cosa, scrivete bene che il teatro Duse è vivo e vegeto perché oggi quando sono venuto il tassista mi ha detto ma perché è aperto il Duse? Certo, non solo è aperto ma auguriamo una lunga vita a questa gestione. Grazie. Noi ce la mettiamo tutta, lavoriamo tutti i giorni per questo. Certo, non tutti i tassisti ancora hanno capito che il teatro Duse è aperto e questo è anche un segnale forte. Adesso io ricordiamo questo Bubble Show, questo spettacolo nato a Riga, è un evento ispirato alle Cirque du Soleil, ma ce ne parli tu? Sì. Spettacolo che abbiamo pensato per inaugurare l'anno nuovo. Speriamo che sia un'unica, assolutamente. Io tra l'altro sono qui a presentare con delle parole, uno spettacolo che di parole ne ha veramente poche, uno spettacolo di immagini, di vocazione, di bolle di sapone, quindi di ciò che di più evanescente ci possa essere. Gli artisti sono tutti provenienti, tra l'altro io rappresento in questo momento Brinumix, e la nostra è una società di distribuzione che si è presa all'azzardo e anche si è presa molto a cuore questo progetto. Dopo il successo, che non vogliamo neanche compararci, ma comunque le Cirque du Soleil, il Slava Snow Show in questi anni hanno avuto in qualità di circo teatro qui in Italia, abbiamo deciso di sposare quest'idea di portare uno spettacolo di circo teatro in Italia, avendone l'esclusiva. Intanto ringraziamo la direzione del teatro che assieme a noi si è presa questo azzardo, questo rischio, ma siamo sicuri che sarà un grande successo, perché è uno spettacolo bellissimo, con una grande, come posso dire, esistono delle macchine teatrali, ci sono, a parte la giocoleria, a parte gli artisti circensi, ma proprio uno spettacolo di immagini molto, molto, molto forti. Abbiamo pensato che in un momento come questo proprio la capacità di stupirsi sia ancora una cosa che non riguarda, solo, viene pensato come uno spettacolo per un pubblico di bambini, in realtà no, non è così, anzi noi speriamo che la poesia e la capacità di stupirsi sia una cosa che ancora appartiene al mondo di tutti noi, al mondo anche degli adulti. Che dire, è uno spettacolo, si chiama Be Underwater Bubble Show, perché in realtà è un'immersione negli abissi marini, per cui i personaggi di questo spettacolo sono tutti personaggi marini. Si ha l'impressione quasi di tuffarsi, così, in apnea, in questa atmosfera magica. Ci sono bolle che coinvolgeranno il pubblico, che prenderanno le persone, per cui un'atmosfera proprio fantastica. I produttori sono Enrico Pezzoli, che è un artista di provenienza italiana che si è trasferito da un po' di anni a Riga e ha messo in piedi questa compagnia. Comunque, un artista, cioè il Bubble Performant, è Marco Zoppi, che è un artista italiano, molto riconosciuto, ha fatto moltissime ospitate televisive ed è uno dei più grandi artisti bubble showman. Che dire ancora? Non lo so se ci sono delle foto. Prima parlando con l'ufficio stampa mi diceva che forse c'era qualche cosa che si sarebbe potuto proiettare. Ecco che stanno andando e quindi io appunto vi inviterei proprio a lasciarvi suggestionare dalle immagini e vi aspettiamo con l'emozione che ci contraddistingue per un evento del genere. Grazie. Ed ora passiamo la parola ad Andrea Brambilla, il nostro Zuzzurro. Ti ringrazio di essere arrivato qui perché tra l'altro domani iniziano proprio le prove di questa nuova avventura che mi vede anche coinvolto in qualità di produttore. Quindi lascio la parola a te e magari ci racconti anche dell'incontro con Alessandro Benvenuti che ha curato l'adattamento di questo testo. O non vuoi? Sì, sì, volete. Spiegare quello che farò è sempre stato difficile per me. Comunque il titolo tutto Shakespeare in 90 minuti è molto pretenzioso. Non è che noi faremo tutto Shakespeare, non lo prenderemo neanche in giro ma cercheremo di dare un'idea di quello che è stata la drammaturgia, le opere di Shakespeare in modo che il pubblico possa dire beh, forse vale la pena andarlo a vedere. Non vogliamo insegnare niente a nessuno e come dicevo prima, non prenderlo in giro. Però partiamo dal principio che Shakespeare ha scritto delle cose che faceva, rappresentava anche lui stesso a un popolo che quando pagava il biglietto magari lo pagava con dei polli o con delle carote o cose di questo genere. Parlare di che cosa faremo, giuro che non lo so, lo capirò questa sera alle 8 quando ci troveremo tutti perché uno si domanda che cosa c'entrano Tussure e Gaspare con Shakespeare. Ce lo siamo chiesti anche noi, tanto è vero che Nino non si è ancora dato una risposta ed è rimasto a Milano per cercare di capire che cosa faremo. L'incontro con Alessandro Benvenuti, mi sembra che farà sia da un punto di vista della drammaturgia sia da un punto di vista della regia, mi sembra che sia una cosa molto positiva perché io stimo molto Alessandro e poi siamo gli artefici del nostro primo disastro teatrale che era stato Andy e Norman nell'86, abbiamo detto abbiamo iniziato con quello, abbiamo continuato con set e facciamo la terza cosa e vediamo che cosa viene fuori. Quindi spiegarvi che cos'è è un po' dura, siamo felici di tornare qui perché in pratica continuiamo a festeggiare il Capodanno dell'anno scorso, continueremo a festeggiarlo quest'anno continuando a ballare e a divertirci. Venite a vederlo, invitate a venire a vedere che così magari spiegherete anche a me che cosa stiamo facendo. Grazie. Livia, vuoi prendere tu il microfono e presentare Ariella? Hai lì il microfono? Prima volevo fare un commento alle parole dell'assessore ringraziando della vicinanza che ha Alduse allora intanto qui un po' di autocelebrazione forse andava fatta nel senso che siamo qui nonostante qualche uccellaccio del malaugurio avesse detto in passato che non ce l'avremmo fatta perché invece siamo qui a presentare una bellissima stagione, anzi questa è la prima parte di una stagione che in realtà si completerà nella programmazione a settembre con altre rassegne e altre iniziative di vario genere importanti che però presenteremo in un secondo momento. Quindi una doppia scommessa in un momento difficilissimo per questa regione e noi veniamo dal Friuli Venezia Giulia, tanti anni fa abbiamo subito un terremoto terribile che ha colpito la nostra regione in maniera devastante, sappiamo cosa vuol dire e quindi siamo vicini a queste zone veramente con il cuore perché l'abbiamo vissuto di persona e sappiamo che cosa vuol dire. Vogliamo anche dire che la nostra regione ha tratto da quella esperienza la forza di crescere, di ricostruire fino all'ultima pietra le opere d'arte e la società tutta e noi speriamo anche con la cultura, con le proposte culturali e anche con delle iniziative di cui parlerà Walter di essere concretamente vicini alle zone che sono state colpite così duramente. Quindi sembra frivolo ma una comunità è fatta anche di cultura per cui è fatta di stare insieme e di credere in una comunità che presenta e che ha una sua anima come ha un'anima questo teatro. Ma passando a cose di spettacolo, io sono fiera anche come produttrice in questo caso di presentare lo spettacolo di cui è protagonista Ariella Reggio. È un testo celeberrimo, Buonanotte mamma, che è un testo drammatico ma nel suo svolgimento anche leggero. Ha due grandissimi interpreti, Ariella Reggio e Marcella Serli, una giovane attrice italo-argentina che purtroppo impegnata in questo momento non può essere qui, con una grande regista, Serena Sinigaglia, che hanno fatto appunto un lavoro molto d'emozione. Io credo nel teatro che procuri un'emozione, non in quello forse con i messaggi oppure quello che è solo, come dire, pura narrazione. Invece credo molto in un teatro di emozioni. Ma sarà Ariella a raccontare come è nato poi questo progetto? Ariella Reggio. Bene, dunque siamo in due, quindi due protagoniste, Marcella Serli e io, che ci conosciamo da tanti anni perché appunto lei è mezza triestina, la mamma vive a Trieste e abbiamo sempre, ogni volta che ci incontravamo, anche se i nostri percorsi teatrali erano diversi, ci dicevamo dobbiamo fare uno spettacolo comico perché ci reputiamo attrici comiche. Infatti siamo un po' due clown. E allora poi abbiamo inseguito Serena Sinigaglia che è una regista conosciutissima ma anche bravissima e ci siamo incontrate, abbiamo letto parecchi testi e questo testo in particolare io lo lasciavo sempre un po' da parte perché l'avevo visto recitare dalle due grandi, Volonghi e Lazzarini e devo dire che dopo tanti anni mi era rimasto nel cuore, nello stomaco, nella testa, cioè è un testo che è difficile dimenticare e perciò lo guardavamo con cautela proprio perché è altamente drammatico. Insomma, a farla breve, leggiamo questo, leggiamo quello, Serena Sinigaglia alla fine dice questo. Noi ci siamo sentite molto, abbiamo avuto un momento di panico proprio per la drammaticità del testo e anche per l'argomento di cui tratta, che è il suicidio. E insomma abbiamo iniziato questa avventura. Devo dire con grandissima soddisfazione anche se è difficilissimo non solo farlo ma anche riceverlo da parte del pubblico, ma quello che ci è meravigliato è che vengono in camerino a dirci grazie, grazie e piangono, piangono. Allora forse non bisogna solo, cioè l'emozione passa anche attraverso il pianto, non solo attraverso il riso, ecco questo volevo dire. E ogni volta è una scoperta per noi, poi ben consapevoli di aver avuto prima due interpreti eccezionali. Ecco, poi dunque volevo dire che non l'abbiamo cercato questo ma la traduzione è di Laura Curino, l'autrice è Marsha Norman, noi due siamo due donne ovviamente, la regia di Sinigaglia, le scene di Maria Spazzi, costumi già da Masi, di attrezzeria Maria Paola di Francesco. Ecco, una donna tira l'altra proprio, perché non è che l'avevamo cercato questa cifra. Per fortuna ci sono i tecnici che rompono questa fila di donne, perché insomma la classe mista è sempre più bella, dai. Ecco, come fosse un giallo vi dirò che comincia come una commedia, è assolutamente tradizionale, si sorride anche, si ride, è un rapporto molto difficile tra madre e figlia e poi nel proseguio dello spettacolo succedono delle cose anche pesanti, anche gravi, anche ridicole, però non vi dico come finisce. Arrivederci. Abbiamo presentato gli spettacoli, vuoi dire qualcosa?